Ragazzi, siamo appena rientrati, oggi ho fatto vedere il museo, ho fatto vedere il battello, ho fatto vedere tutto Oggi era l'ultimo giorno della nostra vacanza, è l'ultimo giorno della nostra vacanza Vacanza, più che vacanza possiamo trovare le conclusioni, è stata una bella avventura, è un'avventura tosta Bella, intrigante, allo stesso tempo stancante Quindi più che una vacanza, noi la reputiamo un'avventura, che diciamo? È stato bellissimo, meglio di Indiana Jones E noi stiamo per fare l'ultima cena, nel senso buono della parola, non l'ultima cena, nel senso l'ultima cena qui in hotel Stasera, domani mattina presto, verso l'aeroporto, per il Cairo, Cairo-Roma, Roma-Catania Amor, vuoi aggiungere qualcosa? Che dici, vi siete mancati? Adesso torneremo più alla... Domani non dire date, perché questo video lo vedranno fra 10 giorni, 15 giorni, quindi non dare date E già ne abbiamo fatte, ma vi volevo dire, appunto, grazie per aver guardato tutti i nostri video, perché a questo punto avete guardato tutti i nostri video Siete già avanti, come giorni E noi... E noi... Nenti, che fa? Ma che... Cazzo, ne ho sempre il cazzo, ne ho scelto A tra poco, a tra poco, perché sicuramente dopo di questo c'era un video odierno A tra poco Ah no Tra poco vi faccio l'ultimo video della scena L'ultima scena la volete vedere? Scelto Qualche video in aeroporto Comunque, questo è il video conclusivo di questa splendida esperienza Ma tra poco c'è l'ultima scena Proprio E poi domani qualche video in aeroporto ci sarà E torneremo alla normalità Un abbraccio Vi amo Scelto Amo, saluta I love you You love me A tra poco con la scena... L'ultima scena Scelto